Una mostra di solidarietà dedicata a Gianni Pasquetto in arte Abdenego 1928-2013 è stata inaugurata a Foggia. 50 quadri dell'artista padovano, pittore e designer saranno allestiti fino al 30 giugno presso Azimut Investimenti. Il ricavato della vendita dei quadri donati da Vanna e Nadia Pasquetto, cugine del maestro, sarà devoluto alla Sori Ollus, l'associazione per la promozione socioculturale e sportivo dilettantistica e la riabilitazione dell'handicappato. L'artista padovano è stato presentato per la prima volta a Foggia nella primavera del 2017, in una mostra duplice allestita al Museo Civico e al Palazzetto dell'Arte. Ad un anno di distanza, dunque, si vuole far conoscere l'arte ma anche il gesto di solidarietà fatto attraverso l'arte, ha sottolineato il presidente della Sori, Costanzo Mastrangelo. Abde Nego, uno dei protagonisti dell'arte contemporanea di un'Italia uscita distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale, ha invece spiegato lo storico dell'arte Gianfranco Piemontese, è stato un artista poliedrico, autodidatta, che proveniva da una tradizione di arte applicata sui generis, qual è la sartoria, per approdare la grafica, la pittura e all'industrial design. Una pittura onirica, favolistica, che sovente sfocia in un surrealismo che non ha nulla da invidiare a quello dei più conosciuti catalani che rispondono al nome di Dalì e Mirò. L'esposizione sarà visitabile a Foggia da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.00. L'ingresso è gratuito.